Vacanze, i lucchesi risparmiano ma non rinunciano, boom di prenotazioni per le crociere, bene anche Puglia, Grecia e Spagna. In calo la produzione di vino, ma i produttori e col diretti sostengono che la qualità sarà comunque ottima. Cittadini progettisti disegnano la capannori del domani, oltre 500 i suggerimenti arrivati dal progetto di urbanistica partecipata. Completato il roster della Arcantea, a raduno del 16, ci saranno anche Banti e Zanotti. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione su di Luca in apertura spazio a quella che è la festività di ferroagosto, domani il 15 di agosto, il mese che per tanti è considerato il mese delle ferie, la settimana in particolar modo delle ferie, e quindi noi siamo andati a vedere se i lucchesi sono stati oculati, se si hanno scelto comunque di partire, quali sono state le mete più interessanti e lo scopriamo nel nostro primo servizio. Tazze in aumento in certezza economica, costi sempre più alti, ma la vacanza è sempre la vacanza. Nonostante una maggiore flessione rispetto agli anni passati e un occhio di riguardo in più sui costi, i lucchiesi infatti anche per quest'estate 2012 non hanno rinunciato a fare le valigie, per viversi giorni di riposo e relax lontani dalla solita quotidianità. Sicuramente quest'anno c'è stato un calo molto di più rispetto agli altri anni, però devo dire che negli ultimi 20 giorni l'italiano è venuto in agenzia e ha prenotato per andare in vacanza, tutto dall'oggi al domani, partenza venerdì per sabato, questa è stata la tendenza fino a ora, fino alla partenza del 19 di agosto. Quest'anno c'è stata una forte cura al prezzo e sono stati molto più parsimoniosi e sono stati, diciamo, i lucchiesi in particolare molto attenti all'offerta, a non sporare il budget previsto. Un desiderio di viaggiare rimane? Quali sono le mete più ambiti? L'Italia viene ancora scelta oppure, visti i prezzi che in mare tante volte è più conveniente andare all'estero, la gente se vuole andare in vacanza e spende preferisce andare oltre confine? Allora, sicuramente la Puglia, tantissima Puglia quest'anno, la Sardegna con i pacchetti fatti perché i prezzi dei traghetti sono troppo alti, perciò non siamo riusciti a prenotarli, solo i traghetti abbinati ai soggiorni, e poi le mete classiche, Baleari più di tutti, più anche della Grecia e tante crociere, quest'anno è stato l'anno delle crociere. L'Italia è stata scelta se a parità, diciamo, di condizioni c'era un parità di prezzo, altrimenti, diciamo, quest'anno è stato più il prezzo a fare la vacanza che non la destinazione, però hanno retto molto la Grecia, la Spagna e anche la Sardegna, laddove l'offerta comprendeva il traghetto gratuito. E se per quest'estate qualcuno si è affidato ai last minute, non trovando però grossi sconti perché Tour Operator non hanno diminuito i costi, c'è chi invece degli sconti ne approfitta pensando già a prenotare la vacanza per il Capodanno. Il Capodanno è già partito, da un mesetto circa le persone che vogliono fare viaggi più importanti prenotano già il Capodanno, le mete più ambite, Maldive, Mauritius, La Telandia, ecco, il Capodanno è già stato prenotato. E come abbiamo visto, i lucchiesi hanno scelto paesi che ci tirano sul di Morale, sono in crisi un po' come l'Italia, quindi la Spagna e la Grecia, ma adesso vediamo invece chi non ha avuto la fortuna di prenotare un viaggio all'estero piuttosto che in Italia e sceglie di restare a Lucca, anche senza fare una gita fuori porta. Vediamo quali sono gli eventi e le possibilità della nostra provincia nel prossimo servizio. Cultura, arte, ma anche sport, cibo e attimi di relax tra sole e acqua ma lontani dal mare. Se per Ferragosto non avete intenzione di prendere l'auto per raggiungere la costa o la montagna, optando per una giornata di festa all'insegna della calma e della lucchesità, non disperate, qualcosa da fare non vi mancherà. Chi ama l'arte potrà cogliere l'occasione offertali dalla direzione dei Musei Nazionali di Lucca che ha deciso di lasciare aperti, eccezionalmente dalle 8.30 alle 13.30, Palazzo Manzi e Musei Nazionali di Villa Guinigi, dove sarà possibile ammirare la mostra Pittori a Lucca al tempo di Paolo Guinigi, Battista di Gerio in San Quirico all'Olivo. Dopo una visita alla mostra e magari un giro in un centro città privo di facce note ma colmo di tanti turisti, coloro che vogliono godersi un po' di sano relax prendendo anche un po' di tintarella, possono recarsi al parco fluviale, dove sarà possibile anche fare rafting, una bella discesa a bordo di morbidi e sicuri gommoni in compagnia di guidi esperte per scoprire scorci inediti e segreti di Lucca e se poi si è stanchi di cucinare, due le opzioni che la Piana mette a disposizione dei suoi cittadini, un ristorante o tortelli, grigliata e specialità annostrane alla festa di Noè, promossa dall'Associazione Sportiva Parigia Camigliano. La Piana pensa poi anche agli sportivi, che nemmeno in un giorno di festa vogliono riposarsi. Per loro l'alternativa ad arte e relax la offre il territorio di Alto Passo. Come ormai da tradizione, anche per questo Ferragosto, lungo le strade del Comune del Tao si svolgerà la 32esima edizione del trofeo Carlo Alberto Perlegrini. A Marginone, infatti, all'ora 14.30 sarà dato il via a questo importante appuntamento per il ciclismo in provincia di Lucca, che porta lungo le strade molti appassionati e sportivi. E chiudiamo la pagina del 3 agosto e abbiamo quella della cronaca. Sono state complete le operazioni di sequestro, partite nel deposito di Alto Passo delle confezioni di polpo in pezzi da parte degli uomini della Guardia Costiera di Livorno e Via Reggio. In tutto adesso sono oltre 8 le tonnellate di prodotto spagnolo sequestrate presso una nota catena di supermercati a livello nazionale. La misura è stata disposta a seguito delle conferme pervenute dall'Istituto Zooprofilattico di Torrino, che ha confermato che all'interno delle scatolette, invece del polpo, c'era solo totano gigante del Pacifico. E cambiamo ancora pagina e passiamo a quella della viticultura. La seccità sta mettendo a dura prova le produzioni agricole per fare affronte all'ondata di caldo. I produttori di vino hanno scelto di anticipare la vendemmia. Noi siamo andati a Monte Carlo a monitorare la situazione. Il servizio. Come negli ultimi 4 anni, anche la vendemmia 2012, o sarebbe meglio dire, soprattutto quella del 2012, sarà problematica. I fattori scatenanti, le copiose piogge di maggio ed il prolungato periodo di siccità, che pare si piotrerà almeno fino a settembre. Stamani abbiamo fatto visita alle aziende di Monte Carlo, per capire se il prodotto tipico del comune della Piana subirà i grossi scompensi che a livello nazionale le associazioni di settore temono, con una produzione che, dicono, diminuirà di almeno il 20%. La situazione nella città del vino non è ovviamente rosea, con il rosso, specialmente quello delle vigne francesi come il Syrah ed il Cabernet, che certamente subirà un calo di produzione, che Eugenio Fontana, della fattoria del Buon Amico, ci dice, seguirà la tendenza nazionale. Discorso diverso, invece, per il bianco, in quanto la vendemmia del DOC di Monte Carlo è precedente rispetto a quella del rosso, così da non asciugare troppo l'uva, che trovata carenza di acqua nel terreno tende a seccare il grappolo. I produttori sono sicuri che la vendemmia 2012, che sarà anticipata di qualche settimana, non sarà certo da ricordare per le quantità prodotte, ma tutti sono concordi su un fatto. Non è sempre vero che da annate con minori produzioni si facciano vini peggiori rispetto ad altre annate. Infatti, chi ha lavorato bene in vigna, potrà presentare nel 2013 vini assolutamente in linea con quelli degli scorsi anni. A sostenere questa tesi è anche la Coldiretti Toscana, che sottolinea come il calo di produzione sarà un problema per i produttori, che in ambito regionale avranno a disposizione circa 400.000 ettolitri di vino in meno. Discorso diverso per la qualità del prodotto, che sarà buona ed in alcuni casi ottima. E parliamo adesso di urbanistica. Ci spostiamo sul territorio di Capannori, dove molti cittadini hanno preso a cuore la proposta lanciata dall'amministrazione del Ghingero di partecipare alla realizzazione di opere pubbliche. Oltre 500, infatti, le proposte arrivate al Comune. C'è chi è disposto a cedere un po' del suo terreno per realizzare una nuova rotonda sul Viale Europa a Marlea, e chi invece propone di mettere la sua terra a disposizione dell'amministrazione comunale per creare una pista ciclabile che colleghi un parcheggio pubblico di Marlea al Parco Fluviale di Lucca. I cittadini di Capannori vestono i panni del progettista e lanciano proposte al Comune. Sono infatti oltre 500 suggerimenti arrivati nell'ambito del progetto di urbanistica partecipata, portato avanti dall'amministrazione comunale con oltre 30 assemblee sul territorio. Tra gli altri suggerimenti avanzati al Comune, poi anche richieste di ristrutturazione di immobili già esistenti, presentate per di più con allegati progetti di edilizia sostenibile, così come richiedono gli indirizzi dell'amministrazione del Ghingero. Adesso le ipotesi di pianificazione urbanistica pervenute saranno valutate dagli uffici competenti, affinché una proposta trovi accoglimento infatti dovrà risultare in linea con gli indirizzi votati unanimamente dal Consiglio Comunale e sostenibili dal punto di vista tecnico. Per quanto riguarda in particolare le nuove edificazioni, le decisioni dell'ente municipale saranno assunte tenendo conto delle previsioni già esistenti nel regolamento urbanistico e ancora non edificati, delle potenzialità di recupero e dell'invenduto. Per illustrare ai cittadini le varie proposte, il vice sindaco Luca Menezini e l'assessore all'urbanistica Claudio Ghilardi organizzeranno nel mese di settembre tre incontri rispettivamente per le frazioni del centro, del nord e del sud di Capannori. Torniamo adesso a parlare del futuro incerto delle province, specialmente quella di Lucca e a scendere in campo stavolta fattivamente è il movimento per Lucca e i suoi paesi che ritiene che il sindaco ed il Consiglio Comunale debbano fare pervenire al Consiglio delle Autonomie Locali e alla Regione Toscana un documento in cui in modo chiaro e preciso si specifichi che qualora venga superato l'obbligo di fusione della provincia di Lucca con quella di Prato e Pistoria, questa non vuole in nessun modo finire nell'area vasta con Pisa e Livorno ma vuole costruire, secondo anche la tesi del Presidente della provincia Baccelli, l'accorpamento esclusivamente col territorio di Massa Carriara. Un nuovo ente che, dicono loro, soddisferebbe in pieno le specifiche imposte dal decreto di riordino a tal fine il movimento a partire dal pomeriggio di sabato 18 agosto e per i sabati successivi sarà presente in via Beccheria con un gazebo in cui si potrà firmare un documento che sarà poi consegnato al sindaco Tambellini, l'obiettivo neanche tanto presuntuoso è quello di ottenere mille firme. E questa è l'ultima notizia per quanto riguarda la cronaca e passiamo allo sport e con la cantera del nuovo direttore sportivo Lorenzo Maruganti che aveva promesso la campagna acquisti lunga e invece ha sorpreso tutti perché il rostre dell'arcantea da oggi è completo e il 16 sarà completo di tutti e dieci elementi per la stagione 2012-2013. Vediamo chi sono i nuovi due arrivati nel nostro servizio. All'eaduno dell'arcantea fissato per il 16 agosto ci saranno anche altri due volti nuovi. Parliamo di Diego Banti, pivot di 204 cm classe 83 proveniente dalla Tezenis Verona di Lega 2 e Simone Zanotti alla pivot di 206 cm classe 92 che arriva da Ruvo di Puglia, formazione che ha disputato il campionato di divisione nazionale A. Banti è una vecchia conoscenza del basket toscano. Pesciatino di nascita ha giocato a lungo nelle fila di Montecatini dove 12 anni fa ha esordito in Serie A. Un giocatore che fa dell'ottima predisposizione al lavoro e del gioco nella metà campo difensiva, un marchio di fabbrica e che consente a coach russo di alternare nel ruolo di 5 l'esperienza di Banti all'esuberanza di Crotte e dello stesso Zanotti. Il palmares del giocatore parla chiaro. Quando ha giocato in divisione nazionale A, il suo contributo è stato spesso determinante per la promozione delle squadre nelle quali ha militato. Simone Zanotti è cresciuto invece in uno dei migliori vivari d'Italia, ovvero quello di Reggio Emilia, col quale ha disputato moltissime finali nazionali. Roberto Russo lo ha scelto per la sua duttività. Infatti Zanotti può ricoprire entrambi i ruoli interni ed integriarsi bene con giocatori più specifici come Santa Rossa e Banti. Il coach è fiducioso che possa migliorare dal punto di vista della continuità e dell'agonismo, così come per gli altri giovani inseriti nel roster 2012-2013. Chiusura quindi col botto per la campagna acquiste dell'Arcantea, che prima di feo agosto ha già completato la squadra per il prossimo campionato, un fattore che potrebbe essere determinante per costruire il gruppo, uno dei principali segreti del successo delle formazioni guidate dal coach livornese. E se l'Arcantea con questi due nuovi acquisti ha terminato la campagna acquisti per l'appunto, il basket Emilia invece ha messo a segno un ulteriore colpo di mercato per quanto riguarda il settore delle piccole, con una giovane promessa del basket italiano. Nel prossimo servizio facciamo il punto su come si svilupperanno le due stagioni sia del basket maschile e anche per quanto riguarda il basket femminile del basket Emilia, città di Lucca. Se la stagione ufficiale del calcio è ormai alle porte, non lo si può dire per quella della palla canestro. Ma se è vero che il campionato dell'Arcantea inizierà solo il 30 settembre prossimo sul campo di Chieti, dovrà altrettanto che la scelta della Lega di far disputare un campionato a 20 squadre rende la prestagione particolarmente importante. È per questo che ragazzi a disposizione di coach Roberto Russo si riuniranno già da giovedì 16 agosto per i test psicofisici per poi cominciare a mettere su chilometri nelle gambe e nuovo affiatamento di squadra dal 20 agosto prossimo. Ci vorrà senz'altro applicazione per sostenere una preparazione che la passata annata ha dimostrato di essere una delle chiavi del successo dei Biancorossi. Infatti il gioco del coach livornese necessita che la squadra sia da un punto di vista fisico al 100% per garantire continuità di rendimento dalle due parti del campo. Discorso diverso invece per le ragazze del basket Lemura che dopo le conferme di Andrade e Bagnara ed il vicino rinnovo di Ryusichkova sono alle prese con un mercato che ha per grandi spazi di manovra soprattutto in previsione futura visto che sia Como che Sesto San Giovanni hanno dovuto hissare bandiera bianca. Dopo l'arrivo di Sperafico si aggiunge anche quel playmaker giovane da affiancare alla Gianolla invocato da coach Diamanti. Si tratta di Francesca Dotto, 19 anni, proveniente dal San Maretino di Lupari formazione che milita nel campionato di Serie A2 che nella passata stagione è andata a rifletto con oltre 8 punti di media giocando 22 minuti a gara. Al momento si trova in Ungheria aggregata alla nazionale Under 20 italiana. E prima di chiudere una notizia di ciclismo è il quarto posto di Valentina Scandolara a caratterizzare l'ultimo weekend di corse per la Michela Fanini record rocks. In Olanda la 22enne Veneta ha lavorato per la squadra azzurra per gran parte della gara in linea poi nel finale non ha avuto molta fortuna. L'atleta ha comunque dimostrato di aver recuperato le forze per concludere l'annata con altri buoni risultati. Bene anche il resto della squadra di patron Brunello Fanini che è impegnata alla Route de France. Oltre alpe le ragazze dirette da Roberto Carube e Lencioni hanno ottenuto un ottimo ottavo posto finale. La Michela Fanini tornerà a correre a fine mese al Giro della Toscana il prossimo che inizierà dal prossimo 29 agosto. Ed era questa la nostra ultima notizia. Io vi ricordo che tutti i servizi li potrete vedere anche sul nostro sito www.diluca.it oppure tramite lo smartphone che sia un iPhone o che sia Android cambia veramente poco Luca Notizia. Con questo io vi rimando ai prossimi appuntamenti con l'informazione che come al solito saranno per domani sera alle 19. Grazie a tutti.